Gli hai detto Totorino, chiedi scusa, no te ne vai, gli chiedi scusa, bravo, grazie. La puntata di ieri di dritto e rovescio su rete 4 ha visto un acceso confronto tra il conduttore Paolo Del Debbio e il giovane trapper Baby Touche, invitato in studio per parlare di recenti vicende giudiziarie che lo vedono coinvolto. Il trapper è finito al centro di un caso di cronaca, dopo che gli agenti della squadra mobile della questura di Padova hanno effettuato un blitz a casa sua per detenzione abusiva di armi ed esplosivi, scaturito da un videoclip nel quale maneggiava armi da sparo in modo inappropriato. La situazione si è ulteriormente complicata con il sequestro di un macete con l'ama affilata, mostrato nello stesso video, e con i precedenti per violenza e possesso di armi del trapper. Durante la trasmissione, Baby Touche ha avuto uno scontro con DJ Ringo, accostandolo a Totorina. Questo ha suscitato la reazione immediata di Del Debbio, che ha chiesto al trapper di scusarsi. Di fronte alla sua reticenza, il conduttore lo ha invitato ad abbandonare lo studio, dopodiché ha chiesto l'intervento della sicurezza. Successivamente, Del Debbio ha espresso le sue scuse al pubblico. Chiedo veramente scusa ai telespettatori. Abbiamo raggiunto un livello di una bassezza totale. Mi scuso di aver invitato personaggi di questo tipo. Con questa arroganza, questo modo di fare così becero, di chiamare zio un signore, Totorina. Me ne scuso di cuore. Mi scuso col pubblico di questo errore. Scusate.